Sono talmente galvanizzato che non saprei da dove iniziare, quindi io prima lascio la parola a voi perché non vorrei... Dai, giovanotti! Io ho preparato una presentazione ma vorrei, prima conosciamoci un po' meglio Conocemo che qui sulla tua presentazione hanno riso Eh, perché le presentazioni di Luigi sono belle No vabbè, la faccio solo perché è giusta perché da una piccola infarinatura per chi non conoscesse Jerry vuol dire che intanto non siete cittadini italiani Se uno non conosce Jerry nel bene o nel male ha dei problemi Eh beh sì, possiamo dire Però magari qualcosa in più lo so Vediamo, esatto, non è un cittadino, io che non ho cultura pop italiana e ogni volta mi dicono ma da dove hai vissuto? Jerry mi hai cresciuto, Jerry Scotti Grazie, grazie, grazie Allora, riproduzione Jerry Scotti Aspetta Mi sto già preparando a ridere Faccio una correzione sul momento Se avrà sbagliato qualcosa Esatto Jerry Scotti, presentatore televisivo e ex politico Talmente marginale la politica che tra un po' si cancella da solo Perché c'è stato un periodo, io me lo ricordo, lavoravo in un bar e c'era il periodo che dicevano Jerry Scotti prende la pensione da parlamentare Era una di quelle, come si chiamano, fake news che giravano Qui non ho copiato incollato da Wikipedia Beh, vagamente sì, vagamente sì Questa se te le pagano a, diciamo a slide, questa non pagate Esatto In realtà raccontaci la storia No, è stato un periodo di contaminazione della mia vita Facevo la radio, la facevo piuttosto bene, non come la fate voi in questo momento Esatto Cioè la facevo in maniera professionale Da tanti anni i ragazzi dell'università di Milano Ogni volta che organizzavano un concerto per la pace O un concerto per la fame O un concerto per la figa La figa Ma anche Ogni tanto poi di figa L'avrei organizzato io Ma comunque dice Chi facciamo presente, chiamiamo Jerry Scotti In uno di questi, come si dice, dopo cena Dopo uno di questi avvenimenti puramente di beneficenza Uno di loro mi dice Ma sai che noi non abbiamo il candidato alle prossime elezioni Tutti gli anni noi proponiamo un candidato per i giovani di Milano Non ce l'abbiamo Io gli ho risposto, beh è un problema vostro Cazzi vostri L'ultimo che avete avuto chi era? Streller Paragone mi sembra anche un po' altisonante Quanti voti ha preso? Io sto annuendo facendo finta di sapere chi si Streller Irrepreensibile Streller Irrepreensibile? Che cazzo è Streller? Uno dei più grandi registi ed attori di teatro Ah scusate Questa parte la tagliamo No no tenetela Tenetela Ma quanti voti ha preso? Ma ne ha presi 1200 E come battuta io Sai da ganassa ho detto Se vengo io prego 10.000 Mi hanno convinto a fare il candidato dei giovani milanesi Non dico di averlo fatto per gioco Perché queste cose per gioco Con una sana incoscienza Una sana incoscienza tipica tua Per certe cose che fai o che hai fatto Ma anche della giovane età E quando è stato il giorno delle elezioni Ho preso 10.000 voti Minchia Fanculo Streller Che era ancora vivo Ai tempi Ero a Riccione A fare DJ Beach Era DJ television Lo facevamo all'Aquafan Tanto per passare un mese di gara Anni 80 Era 1987 Estante dell'87 Pensa a te Sono in Rientro in camera Trafelato la sera Perché facevamo 6 puntate al giorno Sai che Cecchetto Era un noto affamatore di popoli Mamma mia E mi chiama mia mamma Grande genio Grande genio Mi chiama mia mamma In la stanza di albergo Da Milano mi fa Oh sono arrivati i carabinieri Alla porta Cazzo ho fatto un'infrazione Sicuramente un passaggio gorrosso Avrò mandato a quel paese qualcuno No no Mi hanno dato una busta gialla E io non l'ho ancora aperta Erano le 8 di sera Dico mamma aprila Mi stai facendo venire L'ha aperta Ho sentito anche il rumore al telefono E c'era la comunicazione Del questore Della Camera dei Deputati Che io ero stato eletto Alla Camera dei Deputati In quanto ero arrivato Con che è partito ai tempi Craxi Sì partito Non avevo la tessera del partito Ma il partito era il partito socialista Con Craxi Che salutiamo E purtroppo anche lui c'è la scelta Possiamo salutare i suoi figli Ciao Bettino Ma lui non Bobbo Bobbo Che bel nome Bobbo Bobbo Craxi Si si chiama Bobbo Sembra un fint Un nickname Mi sono dovuto andare a comprare un abito Elegante Elegante Entro il giorno della mattina Perché dovevo presentarmi a Roma Dopo 3-4 giorni Entro in una boutique di Viale Ceccarini Non avevo il fisico pesante Come adesso Ma ero pur sempre un ragazzone E dico vorrei un vestito scuro E mi fa No guarda signor Geri Uno come lei D'estate Prenda un abito un po' più chiaro Prenda questo in linea Dico no Lo voglio scuro Ma per che cosa ce l'ha bisogno Io per la vergogna di dire Perché sono stato eletto Al Parlamento Ho detto È un funerale Solo così sono riuscito a comprare L'abito blu E presentarmi a Montecitorio Peccato che avevo dimenticato La cravatta che mi è stata prestata Floreale Da un mio amico Beh insomma Anche lui ha dovuto dire Ah sì no Lui lo sapeva Ragazzi Una parentesi Col senno di poi Di oltre 30 anni di poi Lo rifaresti? No A non lo rifarei B Un'esperienza che non mi ha dato nulla C Un'esperienza che non mi ha dato nulla Perché io non ho dato nulla A quell'esperienza D Se aggiungiamo Anche che dopo anni Ti ha dato delle rotture di cazzo Perché quella leggenda Io so che poi tu doni Hai donato Adesso da quest'anno Finalmente Puoi rinunciare No Io ho proposto Mille volte La proposta di legge Non puoi rinunciare La pensione Facciamo che uno possa rinunciare E voi i soldi Ve li usate come volete Certo Invece alla fine mi hanno detto No Lei li deve prendere E poi li dà A chi vuole lei Allora Lo annuncio ufficialmente Qui a Muschio Selvaggio Che li dà A Muschio Selvaggio Grazie Gerry Grazie Gerry Generosissimo Io avevo in mente Sai farò una borsa di studio Per un ragazzo No Muschio Selvaggio Poi ho guardato Ho fatto il conto economico Del tutto Potrò dare una borsa di studio Di circa 6.000 euro Meglio che niente Vabbè 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 Poteva significare qualcosa Se mi avessero fatto fare Quello per cui ero andato Tu eri andato a fare E' vero Mi avevano promesso Che sarei diventato presidente Della commissione D'indagine della condizione giovanile E guardate Che per come sono andate le cose Nei 30 anni dopo Sarebbe stato un fulcro Un crocevia Un crocevia La società I ragazzi La scuola Le strade I cortili Lo sport Esattamente Tutto quello che adesso In tanti punti Dalla nostra società E' diventato Un problema Non mi sembrava vero Poi ci hanno giocato No La facciamo il mese prossimo No la facciamo l'anno prossimo Alla fine Poi alla fine Hanno fatto presidente Uno Un poverino Che non per colpa sua Ma io avevo 30 anni Lui ne aveva 72 Non so cosa Ma I giovani Maneggi politici L'hanno fatto E io In quel giorno Chi? Chi era? Eh guarda Era un signore Della democrazia cristiana E penso che di lavoro Facessi il rettore Ma nulla di personale Cioè era uno Come dire Aveva Poteva ricoprire Quella carica Però non in quel modo Di descalico No Non un rettore Non un rettore Massimo Donatella rettore Forse andava bene Donatella rettore Insomma quindi Ho dato poco Perché io solitamente Do quando ricevo qualcosa Ho ricevuto poco Mi sono Mi sono un po' Irrigidito Mi sono irrigidito Ho dato le dimissioni Come fanno tutti Do le dimissioni Non me le hanno accettate Ho scoperto anche quello Che non bastava A dare le dimissioni Le dovevano accettare A dare le dimissioni